Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane né sacca né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro, dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Pace e bene carissimi amici, ancora per tutti voi il mio fraterno saluto. Come sempre però vorrei che tale saluto giungesse in modo particolarmente affettuoso alle persone anziane o inferme, alle persone sole, che trovano consolazione nelle parole del Signore e ne sendono la sua solidale vicinanza. Bene, questa domenica, quindicesima del tempo per annum, ci parla di mandato, di missione, di evangelizzazione, di annuncio. Si è profeti non per scelta personale, ma perché chiamati da Dio, inviati da Dio. Il Signore mi prese dietro al bestiame, dice il profeta Amos nella prima lettura. E il Signore mi disse, va, profetizza al mio popolo Israele. Lui stesso dice sempre in questa lettura di non essere profeta né figlio di profeta. Il Signore lo prende dal suo quotidiano, dalla sua storia. Era un pastore, un raccoglitore di sicomori, dice, e lo invia per una missione. Profetizza, parla al mio popolo Israele. Così anche Gesù, nel Vangelo che ascolteremo nelle nostre assemblee, dopo aver scelto coloro che dovevano stare con Lui, anche Gesù infatti chiama i Suoi discepoli dal loro quotidiano, dalle loro attività, ecco, li associa alla sua stessa opera, raccomandando loro lo stile con cui compiere la loro missione. Presi a mandarli, a due a due ascolteremo, e dava loro potere sugli spiriti impuri, e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone. Non prendessero né pane, né sacca, né denaro nella cintura. Gesù invita all'essenzialità. Qual è la sua parola, la buona notizia, è tutto ciò di cui abbiamo veramente bisogno. Chi si apre alla buona notizia diventa egli stesso missionario ed evangelizzatore. Mi piace allora ricordare in questo momento quanto sia stato determinante per Francesco D'Assisi, il nostro padre fondatore, questo brano evangelico. Rimase così colpito da questa parola che dopo aver udito dal sacerdote la spiegazione sul senso della missione, Francesco, esultante di Spirito Santo e scritto nella vita prima di Tommaso da Celano, esclamò questo io voglio, questo io chiedo, questo io bramo di fare con tutto il cuore. Francesco trova la strada per realizzare la sua personale esperienza battesimale. E la sua esperienza diventerà poi quella di tanti altri uomini e donne che lo hanno seguito e si sono santificati come lo stesso Sampio da Pietrelcina. La parola di Dio, carissimi amici, si è accolta nella verità, non ci lascia indifferenti, ma ci cambia il cuore e la mente e ci rende capaci di compiere in pienezza il nostro cammino di fede, ci permette cioè di realizzarci veramente e totalmente nel battesimo che abbiamo ricevuto. Ci rende capaci di compiere la nostra missione nella testimonianza vera e credibile di colui che è morto e risorto per noi. Chi accoglie nella verità Cristo, parola vivente, è capace di percorrere fino in fondo la strada della santità. E questo allora l'augurio che faccio a voi e a me in questa domenica. Da uomini veramente liberi non dobbiamo aver paura di ciò a cui siamo stati chiamati, ma andare avanti con gioia nelle sue vie. Pace e bene e buona domenica a tutti.